Stanotte verso le 5 è cominciato a venire una tempesta, pioveva tanto, verso le 6 è cominciato a piovere tanto e è venuta giù tutta la montagna fondamentalmente perché non essendoci più la piante, radici o altre, tutto bruciato la montagna è venuta giù con tutto quello che ne consegue. E niente, il torrente ha sfondato la porta, è entrato, eravamo 4 adusi, abbiamo 3 bambini di 40 giorni, di un anno il 18 agosto e di 3 anni, e ci siamo salvati per mila. E questo è stato il set al coperto di questa fiction rai con la 11 marzo film production, credo, che dà il titolo provvisorio per farlo di protezione civile. Grazie a tutti.